Musica Al via la campagna Mangia Comu Parri, Mangia Sano, Mangia Siciliano per raccontare ai siciliani le ragioni per cui conviene scegliere il nostro prodotto evitiamo di portare veleni nelle nostre tavole e poi sosteniamo i nostri produttori Questi due piatti pasta sembrano uguali ma non lo sono Perché? Questa pasta da dove viene? Questa pasta viene prodotta dal pastificio di Valle d'Olmo che vanta la filiera corta è un grano che non viene trattato e quindi non subisce contaminazione chimica Questo è un pomodoro siccagno che viene coltivato senza l'ausilio di apporti idici e viene prodotto nell'entroterra siciliana, precisamente a Valle d'Olmo senza interventi massivi, quindi senza fertilizzanti e anticrittogamici Questo consente appunto di avere un prodotto sano e genuino Quando vai al supermercato, se il prodotto non è siciliano, scartalo A breve il nostro marchio, Mangia Comu Parri È prestissimo un disegno di legge in Parlamento Continua a seguirci tutti i venerdì alle 15 sulla mia pagina Facebook Mangia Comu Parri, Mangia Sano, Mangia Siciliano